Grazie a voi di essere intervenuti in questo orario dedicato ad altre attività e circostanze di vita. Io ho preparato un testo relativamente breve, io spero di chiedervi, di dedicarmi la vostra attenzione per 40 minuti, 45, penso che sia un tempo ragionevole anche se non ho fatto le prove, quindi è tutto da scoprire se riuscirò a mantenere questi limiti che mi sono io stesso in posto. Fin da quando è stato annunciato il tema di questa edizione del festival, da più parti si è notata la novità nel proporre un verbo e non un sostantivo, amare e non amore. Probabilmente anche altri relatori sono già intervenuti a partire da questa circostanza. Ma di quale verbo si tratta alludendo alla pratica, all'intenzione o all'azione di amare? Come è noto fin dalla più tenera età, secondo le norme grammaticali, il verbo intransitivo è un verbo che fa riferimento a un proprio soggetto ma non è seguito da un complemento oggetto. I verbi transitivi, cioè non si reggono da soli, hanno bisogno del loro complemento. Quelli intransitivi invece hanno solamente un argomento, il soggetto. Conferendo all'aspetto tecnico, diciamo così, una prima connotazione in parte simbolica, si potrebbe dire che i verbi intransitivi non permettono il transito da un soggetto ad un oggetto. Non rendono possibile, cioè ad un soggetto, l'esperienza dell'altro. Quindi qui già intuita, insomma, la prima tesi del mio discorso. La tesi che vorrei svolgere questa sera consiste dunque nell'affermare che amare è un verbo intransitivo, in cui il soggetto che ama, confinato nell'ambito del solipsismo, afferma il proprio narcisismo. Due parole chiave che vanno assolutamente congiunte, che procedono di pari passo, il solipsismo filosofico, diciamo così, e il narcisismo psicologico. Esercitando un desiderio rispetto al quale l'altro costituisce un mero quanto seducente pretesto. Questo sembra l'esito di una millenaria ricerca sul significato di amare, l'approdo di una tradizione di pensiero che dalla divina mania di origine platonica giunge fino alle più recenti teorizzazioni della filosofia francese. Nella paradigmatica formulazione di Roland Barthes, frammenti di un discorso moroso che è uno dei libri più noti a proposito del tema che cerchiamo di indagare, io desidero il mio desiderio, citazione da Roland Barthes, io desidero il mio desiderio e l'essere amato non è più che il suo accessorio, l'accessorio del mio desiderio che è il vero oggetto della mia pulsione d'amore, per così dire, del mio slancio. Tuttavia affermare che amare è un verbo intransitivo non è una conclusione pacifica, non lo è per nulla. Lo svelamento di un'essenza recondita dissimulata da apparenze illusorie di reciprocità. Può essere anche avvertito come un dramma, un vero e proprio dramma, un limite invalicabile che genera angoscia e senso di inettitudine. Una pratica iniqua che rende vano l'emergere di una passione altrimenti vitale ed esuberante. Il caso paradigmatico, anche qui mi limito a fare un esempio, ma ovviamente la costellazione è molto più ampia, il caso paradigmatico è quello di Shakespeare, il cui problema fondamentale fu l'incapacità di superare l'amore per se stesso. Lo dice ripetutamente, cosiddetto amor proprio. Come si legge nel sonetto 62, il sonetto di Shakespeare, il peccato d'amor proprio è padrone dei miei occhi, di tutta l'anima mia e di ogni parte di me e non vi è rimedio per tale peccato che tante profonde radici ha messo nel mio cuore. Quindi l'amore di se stesso, l'amore rivolto a se stesso impedisce l'esperienza dell'amare qualcuno al di fuori di sé. Quindi Shakespeare è consapevole del limite intrinseco al narcisismo, assolutamente in modo inequivocabile e veramente le citazioni in merito potrebbero sprecarsi, ma non è questo il nostro conto. Proviamo a fare un passo indietro per ritrovare poi di queste conclusioni. Nel mito platonico viene prefigurata la vocazione intransitiva di Eros, il suo tratto nichilista che cresce nel pathos della distanza e si stempera nella peculiare melanconia del solipsismo. Socrate ha appreso da Diotima che Eros non è un dio, ma un demone che gode di una posizione intermedia tra la sapienza degli dèi e l'ignoranza degli uomini, rendendo possibile la comunicazione tra il regno divino e il mondo umano. Eros sta in quello che Platone chiama il metaxu, in questo ambito intermedio tra gli dèi e gli uomini e dunque permette anche una comunicazione tra i due regni, tra quello iperurbanico e quello terrestre. E forse il simposio platonico, come sapete, è l'atto inaugurale della riflessione occidentale sull'Eros, questo è ben noto. La condizione del demone è la mancanza, la materna filiazione da Penia. Eros è figlio di Penia e di Poros, ma soprattutto la madre si chiama Penia, cioè mancanza, come ben sapete. L'assenza di una proprietà a cui aspira, la privazione di un oggetto di cui avverte il seducente quanto estenuante richiamo. La bellezza e la sapienza gli sono precluse, ma non il desiderio e la nostalgia di queste. Cioè Eros nasce maninconico in qualche modo, perché prova nostalgia, sa che l'oggetto è inattingibile e questa è la ragion d'essere anche dalla propria ricerca. Quindi già in Platone ci sono quasi tutti gli elementi del discorso amoroso attuale. Quindi è opportuno, secondo me, richiamarli ancora oggi. Diotima può così affermare che Eros è filosofo. C'è un'identità precisa nel simposio platonico fra Eros e la filosofia. Ma la filosofia che cos'è? Lo sapete, no? Ovviamente l'amore di qualche cosa che non si possiede, di un sapere che è sempre in qualche modo irraggiungibile, come amante inappagato di qualcosa che eccede il suo potere cognitivo, ma a cui tende per effetto di una ineludibile voce interiore, ricordate il demone, no? In questo senso. L'identità che Platone istituisce tra l'Eros e la filosofia è dunque di genere privativo. Tutti e due mancano di qualcosa. Questa è la prima evidenza, no? Del discorso platonico. Individuata nell'assenza di oggetto e nell'elaborazione di un lutto originario. In un'esperienza di sottrazione di cui non si ha memoria, se non attraverso la traccia di un percorso che ripropone costantemente il carattere inattingibile dell'oggetto. Perché se fosse attingibile ovviamente questo percorso avrebbe, conoscerebbe un esito, una conclusione, no? Un punto d'approvo possiamo dire. Di fronte alla preclusione dell'oggetto, la bellezza quanto il sapere, Eros uguale filosofia, Eros scopre la propria vocazione intransitiva, cioè rappresenta l'oggetto simulandole un'apparente prossimità, trasformando in una occasione di dedizione mentale e affettiva, trasformando questo oggetto in un'occasione di dedizione. La dedizione che si produce talvolta una forma di vera devozione non è necessariamente dolorosa. Spesso può essere accettata con gioia. E qui facciamo un primo salto, diciamo, al di là dei parametri storici. Come rileva Robert Walser, un grande scrittore svizzero dell'inizio del secolo scorso, nei fratelli Turner, Walser scrive, non si deve amare chi vuole amare, altrimenti lo si disturberebbe nella sua devozione. Cioè la reciprocità poi non è in effetti qualche cosa che deve assolutamente essere perseguito. L'altro vuole amare, benissimo, non disturbo perché sono fatti tuoi, per così dire, no? E quindi la reciproca non si dà. Al cospetto dell'eredità platonica, del suo orientamento elettivo verso filia, mi dicono che Cacciare oggi ha parlato anche di queste cose, ma io purtroppo non l'ho sentito, in cui risiede la purezza e la nobiltà di Eros nella filia. La riflessione artistica, letteraria e filosofica della modernità ha messo in evidenza la natura strutturalmente ambigua di tale esperienza, i cui cospicui risvolti illusori e infine nichilistici, altro termine che useremo insieme a quelli del solipsismo e del narcisismo, no? Solipsismo, narcisismo e nichilismo, poi se volete potremmo anche cercare un'articolazione più precisa, ma insomma si intende la parentela, insomma, no? Fra questi temi al fine del nostro discorso. Una dimora nel frammento è la nostalgia di una totalità irreperibile, assenza di una guida sapiente come quella di di Otima, quella di cui si avvale, ne so, per te, no? Nel simposio, cioè nella modernità non abbiamo neanche più di Otima, quella di Otima che Hölderling ad esempio, Vaghegiana, insomma, ricorderete anche queste cose. È un dolore della separazione e il richiamo di un altrove fugace e transitorio, crisi di un logos che non rivela ma occulta, che afferma soltanto per negazione. Tutte queste dimensioni potremmo chiamarle deiettive della mare, variamente elaborate nel corso dei secoli, inducono l'epigono di tale ricerca ad una scepsi radicale. Se dovessi caratterizzare la mia posizione, quale l'ho espressa nei libri che lei è gentilmente richiamate, quando probabilmente continuerà stasera ed eventualmente in futuro, scepsi radicali. scetticismo radicale. Cercherò di offrirvi degli elementi di questa radicalità della mia scepsi. È una scepsi che non rinuncia però a confrontarsi con il darsi del fenomeno amoroso, con l'evidenza potremmo dire del fenomeno amoroso, per quanto aporetico, cioè problematico, esso appaia. Cioè ad alludere al suo presunto accadere mediante immagini che non rimandano peraltro ad una totalità che il pensiero sappia o intenda cogliere. Il movimento spontaneo di Eros sembra pertanto sfociare in un nichilismo intransitivo che mira all'estensione dell'altro e viene declinato sotto le modalità del solipsismo e del narcisismo. Qui vedete i tre termini tra loro correlati. Nichilismo intransitivo in cui appunto l'estinzione dell'altro è un termine che mi viene anche da Thomas Berger. E' quello forse più radicale, colui che tra gli scrittori contemporanei che forse conoscete, insomma sicuramente ha spinto più in là il discorso sul nichilismo, ancora più in là dei filosofi, perché qui come vedrete la distinzione di profilo intellettuale fra gli scrittori, gli artisti e i filosofi in senso stretto si perde, svanisce, che sono in realtà i poeti che si occupano, soprattutto che hanno scritto su Eros, a parte la, come dire, primogenitura platonica. Adesso facciamo un piccolo escursus di tipo psicanalitico e qui come prima dicevo che parlando di Platone pensavo a questo intervento che non ho ascoltato di Massimo Cacciari. Qui posso dirvi che l'intervento che qualcuno di voi avrà ascoltato di Massimo recalcato sulla canna entra in qualche modo in dialogo con le cose che sto per dire. Quando Freud, nell'introduzione al narcisismo, opera del 1914, si interroga sul destino cui va incontro la libido sottratta agli oggetti, pone la psicanalisi al culmine della riflessione su quella aporia fondamentale che i poeti, i sacerdoti di Eros, lo dice Freud, avevano individuato e incessantemente riproposto. Questa aporia è legata al concetto, dice Freud, di besetzung, cioè di investimento. Cosa significa collocare o investire le proprie energie psichiche? Quale intenzione o necessità soggiace alla selezione di un oggetto o di una rappresentazione a cui tale energia di investimento possa aderire in termini più correnti? Come individuiamo noi l'altro, l'oggetto amato magari per tutta la vita? Per tutta una serie di circostanze tra l'altro casuali. Ma Freud vuole ovviamente darci una spiegazione più pertinente, anche più persuasiva. Secondo, quale è peculiare criterio di rilevanza? Perché il problema è che noi abbiamo esperienze di una molteplicità empirica. E allora come selezioniamo nella molteplicità empirica quell'unico, per definizione unico, elettivo oggetto d'amore? Allora, quale peculiare criterio di rilevanza si afferma nel soggetto la volontà di appropriarsi in una sezione finita della molteplicità empirica? E qui Freud risponde giungendo esattamente a quella che io ho chiamato la scepsi radicale. Citazione, scrive Freud, possiamo addirittura porci il problema di dove sorga la necessità per la nostra vita psichica di andare oltre le frontiere del narcisismo e di applicare l'apido agli oggetti. È chiaro questo. Quindi il narcisismo formulato in questi termini sembra essere una concezione, una nozione strutturante della personalità al di là di possibili derive psicopatologiche. Questo è la questione. Qui la metapsicologia si avvicina incredula alla possibilità di una scepsi radicale. Tuttavia, se non vi fosse necessità di applicare la libido agli oggetti, come potremmo spiegare l'innamoramento? Cioè quello stato di grazia che inconfutabilmente sembrerebbe deporre a favore di un investimento d'oggetto, di una trasformazione dell'infantile libido narcisistica in libido oggettuale. Perché poi in Freud c'è anche proprio un'idea di una maturazione della personalità per cui il narcisismo a un certo punto viene abbandonato e si arriva ad un'età matura in cui si è in grado di arrivare ad un investimento oggettuale. Così come la genitalità dovrebbe essere la fase matura dello sviluppo della sessualità sono cose ben note. C'è una filosofia della storia in qualche modo, se non altro della storia individuale in Freud. Allora, alla luce anche di queste considerazioni assolutamente radicali di Freud, si può concludere che il movimento di Eros è compreso nella vasta oscillazione tra una libido narcisistica primaria e una libido oggettuale secondaria. Ma questa oscillazione va ancora una volta interrogata anche a distanza di direi proprio di un secolo, non? 14, siamo nel 13. L'elemento aporetico è costituito dall'inesauribile possibilità che un narcisismo secondario, cioè vissuto in fase adulta, subentri nello spazio psichico della libido oggettuale. E quindi, come dire, la libido oggettuale sia il movimento apparente della maturità sotto la quale in realtà si annida un narcisismo che non è più quello del bimbo e infatti Freud lo chiama narcisismo secondario perché è la ripresa di qualche cosa di già vissuto nell'infanzia ma con connotazioni che cambiano radicalmente di senso proprio perché sopravvengono in età adulta. Freud ci ripropone costantemente l'immagine di una libido che si ritira dagli oggetti per tornare nell'alveo originario e materno dell'io, salvo poi suggerire che questa modalità narcisistica si attua per lo più in condizioni psicopatologiche. E questo è veramente un punto di oscillazione significativo. Cioè è la condizione dell'uomo quella di vivere nella dimensione del narcisismo anche in età adulta oppure questa è solo la deriva psicopatologica? Questa cosa anche in Freud non è così chiara. Io propenderei ovviamente a valorizzare la considerazione che si tratti in realtà di una evoluzione che non evolve, che tende a involvere, a tornare verso l'infanzia. La psicanalisi assume la vita amorosa, potremmo dire, come una condizione residuale di esistenza, una chance inaudita per un soggetto occasionalmente collocato nell'eccellenza del destino, cioè in cui la sua libido riesce a traboccare sull'oggetto, sempre per usare i termini freudiani, che poi abbandoneremo. Ultima citazione, essere innamorati significa che la libido dell'io trabocca sull'oggetto, proprio trabocca come un vaso, in qualche modo si riversa all'esterno. Viene amato l'oggetto che possiede le prerogative che mancano all'io per raggiungere il suo ideale. Questo è un altro punto classico, paediano, l'ideale dell'io. L'altro non è altro che l'ideale che l'io si pone e cui mancano certe prerogative per realizzare il compimento della sua idealità immaginaria, potremmo dire, potremmo dirlo in diversi modi. Il concetto di idealizzazione è il costrutto teorico che Freud deve introdurre per definire il labile equilibrio tra un narcisismo pressoché onnipervasivo e tetragono ad ogni schema evolutivo del dio, tetragono resistente, e una libido oggettuale discontinua ed evanescente. Talvolta accade che questa libido trabocca sull'oggetto, ma è sicuramente discontinua ed evanescente. È abbastanza occasionale. Nel processo di idealizzazione l'oggetto viene elevato di rango psichico assumendo alcune caratteristiche proprie dell'ideale dell'io. Quindi non sono le caratteristiche dell'oggetto, questa tutta la letteratura l'ha detto, ma quando mai si sceglie una persona per le sue qualità? Si crede di, è illusorio questo movimento, cioè sono le caratteristiche che uno rincontra nella propria idealità soggettiva che vengono attribuite ad un soggetto in grado di colmare questa mancanza. Questo ragionamento abbastanza stringente insomma che ci propone la concettualità psicoanalitica. L'analisi di Freud che adesso abbandoniamo ci riporta quindi a Stendhal, il quale aveva già compreso il carattere ambivalente e intransitivo della dedizione amorosa quando nel dare un'immagine della nascita dell'amour passion, come lo chiamava lui, descriveva la vicenda di un ramoscello secco, questa storia l'avranno raccontata chissà quante volte, un ramoscello secco che gettato nelle miniere di sale di Salisburgo si trasformava in un ramo scintillante di diamanti, chiusando così la propria metafora per cristallizzazione che è il termine concettuale che introduce Stendhal, lo scrittore francese dell'Ottocento, per cristallizzazione intendo una certa febbre dell'immaginazione che travisa un oggetto il più delle volte abbastanza comune trasformandolo in un essere speciale, il ramoscello secco che diventa un foglie di diamanti, questo è il processo dell'innamoramento che si basa sulla cristallizzazione come quella appunto dei diamanti. Secondo Stendhal, soltanto in assenza dell'oggetto amato si genera un'ammirabile cristallizzazione fantasmatica, anche qui perché è meglio che l'oggetto non ci sia, perché almeno siamo liberi di attribuirgli tutte le caratteristiche che sono funzionali a questa idealizzazione, a questo processo di cristallizzazione. Se l'altro fosse proprio qui a distanza ravvicinata, e questo i poeti del Cortesi lo sapevano bene, solo a distanza si può veramente concepire un innamoramento, l'altro praticamente non deve, l'esistenza dell'altro deve essere ridotto proprio ai minimi termini, deve essere un flatus vocis, deve essere un nome che risuona da lontano. Cristallizzazione fantasmatica ci introduce poi anche al titolo che abbiamo dato a questo incontro, perché appunto non si tratta di un esame di realtà ma si tratta di qualcosa che avviene a livello immaginario e adesso cercheremo ovviamente di spiegarlo meglio. Il fantasma, che cos'è? Il fantasma non è un qualche cosa di solo letterario, di un genere particolare della storia della letteratura, no? Tipo gothic tales o cose di questo genere. Il fantasma è un termine che ha una sua precisa connotazione concettuale ed è il teatro immaginario in cui si compie l'appagamento di un desiderio, la sua messa in scena potremmo dire, no? C'è un aspetto teatrale molto forte, no? tutto l'equilibrio di questi elementi che cerchiamo di sviscerare. Il fantasma, cioè, è il prodotto illusorio ma irrinunciabile, guai a toglierci i fantasmi, che non può resistere ad una apprensione corretta del reale. Non si deve proprio confrontare. Il fantasma non ha nulla a che vedere con... la realtà eventualmente è un pretesto, perché il registro fantasmatico si illude ovviamente di dare, vorrei dire, un'interpretazione corretta del reale. In realtà eventualmente al massimo è un pretesto per lavorare, potremmo dire, anche di fantasia, fino ad arrivare a quel processo mirabile che Stendhal chiamava cristallizzazione. E a quel punto il ramoscello secco ce lo troviamo trasformato in un collier di diamanti. Quindi fantasma di desiderio o fantasma d'amore, come dice il titolo dell'incontro. Parafrasando la nota definizione freudiana circa la funzione del sogno, si potrebbe concepire l'amare come la soddisfazione allucinatoria di un desiderio. per dirla con un grande scrittore italiano che spero che voi ricordiate dal nome Giorgio Manganelli, a cui in qualche modo, a cui memoria vorrei dedicare questo mio intervento, perché uno dei pensatori, scrittori, pensatori più radicali su questo tema, quando perseguo l'inesplicabile pratica dell'amare, questa pratica che già Kierkegaard considerava inesplicabile, in vino veritas, amare, viene considerato un'attività su cui, come dire, nessuna ragione può essere adotta per giustificarne l'esistenza. Quando perseguo questa pratica dell'amare, trasformo la mia vita nella, scrive Manganelli, paziente ermeneutica di una allucinazione. Nulla di psicoanalitico, ma voi sentite che il discorso, pur cambiando i soggetti e le circostanze e le modalità espressive, in qualche modo si richiama. Esegesi paziente quanto incauta e velleitaria, in cui prendono di mora i fantasmi innamorati, come li definisce Manganelli nel suo grande libro che si chiama proprio Amore, niente di meno. I fantasmi innamorati che si evocano vicendevolmente, come una comunicazione tra fantasmi, fantasma, mostrando la loro lisa immortalità, perché un fantasma è veramente immortale, contrariamente a tutto ciò che è immortale. Il loro nulla costitutivo, parlavamo di nichilismo fin dall'inizio, e abbiamo incontrato a questo punto Manganelli. Il loro nulla costitutivo che abita il deserto come il luogo degli infiniti possibili. Voi capite che se non c'è un esame di realtà, noi possiamo veramente spaziare nella configurazione dei possibili. Questo è il deserto perché è la casa del nulla, il deserto per definizione, la dimora del nulla, ma è anche la dimora, potremmo dire quasi leibniziana, in cui i possibili assumono configurazioni variegate, molteplici. Quindi in realtà non sto presentando una posizione pessimista sul tema, non c'è motivo, non c'è nessun elemento pessimistico. Nichilismo non è un pessimismo, questo dovrebbe essere chiaro, ma magari considerazioni del genere le portiamo poi verso la conclusione che non sarà così tarda. Questo deserto alimenta il gran teatro delle relazioni, noi possiamo configurarle, immaginarle, siamo poetici, siamo creativi sicuramente in questo teatro, popolato da evanescenti barlumidi di inesistenza ovviamente e mi raccomando devono rimanere inesistenti perché in momenti in cui la realtà subentrasse ovviamente questa molteplicità subirebbe la classica reduzio ad unum, che è un altro termine filosoficamente molto pregnante e che va in contrasto a questo pluralismo, a questa disseminazione, come avrebbero detto i filosofi francesi del secolo scorso. L'inclinazione ad amare comporta la percezione di un reciproco nulla. Il soggetto innamorato si aggira nei quartieri labirintici del nulla, scrive Manganelli, che compongono il regno di niente, niente, nulla, in cui si aggirano soltanto fantasmi, mai enti provvisti di realtà oggettivamente accertabile. Il rigoroso e invadicabile non essere dell'altro, che è questo il punto, diventa la sua qualità eminente, come ho già in qualche modo suggerito fin dall'inizio, elettiva del reciproco vaneggiare, perché se no lo ostacolerebbe. Nulla in te mi va a genio più del tuo non esserci. Questa è una dichiarazione d'amore straordinaria presente in questo libro bellissimo di Manganelli, che vi ripropongo, ovviamente perché non se ne parla, è stato scritto una trentina di anni fa e non è mai stato ristampato neanche dal buon calasso per adesso. Nulla in te mi va a genio più del tuo non esserci. Poiché si ama soltanto ciò che è radicalmente assente, secondo tutta una linea che dalla poesia cortese arriva molto vicino a noi, perduto da sempre in quanto mai posseduto, il moto dell'animo che chiamiamo amare si configura come qualcosa di inesistente volto a conseguire il nulla, cioè l'entità onnipervasiva di cui gli amanti fanno esperienza con caparbia e ostinata passione. Nel saggio postumo di Georg Simmel, che è un altro dei grandi protagonisti del discorso sull'amore, peccato non sia stato inserito nei classici, non si diceva ieri sera a cena tra l'altro. Georg Simmel, sapete, filosofo sociologo tedesco, nel 1900 scrive un capolavoro assoluto che è il frammento sull'amore che io ho fatto pubblicare da Donzelli nel 2001, un po' di anni fa. Insomma è disponibile, tradotto da Paola Capriolo. La facoltà di trascendenza propria dell'anima sembra progressivamente orientata ad un processo di incorporazione dell'altro, di azzeramento dell'oggetto d'amore, la cui autonomia raggiunge, dice Simmel, il valore limite zero. Il compimento dell'amore, di follendo un del rigue enorme, c'è tutta una tradizione che io qui mi limito veramente solo a richiamare per sommi capi. Il valore limite zero è il compimento dell'amore. Il moto del sentimento, scrive Simmel, ha la forma di un'ellissi in uno dei cui fuochi sta l'oggetto, sebbene essa nel suo insieme resti rinchiusa nell'immanenza del sentimento. Provate a immaginare questa ellissi. Un oggetto plasmato da quell'atto creativo primario che è il desiderio, come ormai sappiamo, capace di ridurre l'altro a pura rappresentazione soggettiva. Una imago originale sottratta ad ogni sua possibile preesistenza empirica. L'amore è dunque come atto creativo e formativo dell'oggetto, valore spirituale indipendente dalla configurazione del mondo esterno. Quando dichiariamo che l'altro è il mio amore, intendiamo dire che l'altro è la mia rappresentazione, in quanto abbiamo generato un'immagine unitaria e originale che prima non sussisteva. L'abbiamo davvero inventato, l'abbiamo messo al mondo in questo registro in cui i possibili scatenano la loro danza. Potremmo dire che l'innamoramento è una danza dei possibili a questo punto. Dopo Constant, Constant Adolf, altro grandissimo testo in merito all'assenza, non sto a perdermi in chiacchiere, ci farebbero tardare. Dopo Constant e Stendhal, mi riferisco all'ottocento francese, il primo ottocento francese, Freud e Simmel dunque ripropongono il tema dell'intransitività, da cui eravamo partiti, vi ricordate, dell'intransitività fantasmatica della dedizione erotica. Simmel descrive l'amore come una funzione immanente della vita psichica, qualcosa che si genera e si esaurisce nell'anima individuale. Scrive Simmel, un dinamismo che si genera dall'autosufficienza dell'interiorità. Fine della citazione. L'autosufficienza dell'interiorità filosoficamente, voi pensate all'ioptivo di Fichte, no? Ad esempio, c'è il solipsismo che è la grande corrente filosofica della metafisica, no? Adesso dico tutte cose senza avere il tempo ovviamente, no? Di approfondirle, di analizzarle, eccetera. Ma voi pensate come viene un filosofo come Simmel e dice ecco, nell'innamoramento siamo proprio di fronte a questo gesto tipico della filosofia occidentale. Tutt'al più l'oggetto è uno stimolo, una causa occasionale, un pretesto, una contingenza propizia, o almeno che a noi appare propizia, per attivare il lavoro dell'immaginaria. No, mica sempre è sufficiente incontrare qualcuno. Quando l'amore rivela la sua essenza narcisistica e l'alterità che si esperisce nella differenza tra i sessi viene ricondotta nello spazio del medesimo, no? E fagocitata dalle istanze autoconservative dell'io, questo avviene appunto nel processo che stiamo tentando di descrivere. Il carattere fantasmatico dell'oggetto d'amore si espone, s'espose, scriverebbe Jean-Luc Nancy, mi spiace lamentarne l'assenza proprio in questa edizione del Festia, dove espose, lui lo scrive lasciando la radice linguistica di pelle, P-A-U, po', no? S'espose, no? In francese si può giocare, no? Con questo termine, no? Come radicalmente, si espone dunque, come radicalmente narcisistico. Nello scenario del desiderio l'altro viene avviluppato nella propria immagine, abbigliato con i costumi di una scena domestica e conserva l'aspetto di una consuetudine interiore. Siamo creativi, siamo produttivi, siamo, l'abbiamo detto, no? Inconsistenza e circolarità della scelta oggettuale, dunque. Ubiquità, permanenza e non ulteriorità di un narcisismo che non subisce reali avvicendamenti nello sviluppo dell'io. E questa sembra una posizione molto radicale, rispetto a cui certa psicanalisi poi ha cercato anche di controbilanciare altre dinamiche per cui diciamo che una gratificazione narcisistica è molto utile per ovviare delle ferite narcisistiche che caratterizzano indubbiamente l'individuo e il soggetto. Quindi, ora, il narcisismo potrebbe anche assunto in piccole dosi, moderatamente, essere utile. Insomma, questo è un discorso che ci porterebbe lontano. È molto interessante valutare la tesi di Giulia Cristeva, un'altra filosofa e psicanalista contemporanea, che ha scritto Istuarda Moore, anche lei una trentina di anni fa, con questo discorso tra il letterario e lo psicanalitico, insomma più o meno, e il filosofico. E la Cristeva considera il narcisismo, lo dice a chiare lettere fin dalle prime pagine del libro, la demenza del nostro tempo. Il narcisismo è la demenza del nostro tempo, abbinando dunque tratti storico-epocali a quelli strutturali di cui stiamo parlando. Anche se molti psicanalisti contemporanei sono più benevoli nei confronti della gratificazione narcisista. Voi capite che quando si dice che nel nostro tempo è caratterizzato da una demenza, e questa demenza si chiama narcisismo, come dire, non è che si sposti il discorso, lo si appesantisce. Un conto è dire la struttura dell'io ci porta a crescere regredendo, per così dire, verso il narcisismo infantile. Un conto è dire tutta la nostra epoca, quello che noi vediamo, è un invito, una sollecitazione ad approfondire, a radicalizzare il narcisismo che viene a connotare i nostri comportamenti. E voglio dire, qui si sta rendendo più complessa l'operazione, ma secondo me radicalizzandola ulteriormente, che è la cosa ovviamente che a me interessa fare a questo punto. Ma parliamo un attimo di Lacan, visto che abbiamo fatto riferimento alla conferenza di Massimo Recalcati, che ha scritto una monografia molto bella, in qualche modo definitiva, su Jacques Lacan. Nel seminario dal titolo Ancor, che voi conoscerete, tenuto da Lacan nel 73, il cui contributo compendia esemplarmente la complessa problematica e irrisolta fisionomia dell'amare e del rapporto sessuale, lo psicanalista francese sosteneva che il rapporto n'existe pas, non esiste, e che di amore proprio non se ne può parlare. Scrive nel seminario, qui ci sono delle espressioni proprio perché è un seminario recitato, pronunciato, proferito in modo orale, anche l'espressione più libere rispetto ad altri iscritti di Lacan. Da quando tace Diotima, cioè la sacerdotessa del simposio platonico, l'agnosticismo è sempre d'obbligo. Eros è inesplicabile, ineffabile o interscutabile, no? Purtuttavia esso rimane, dice Lacan, al centro del discorso filosofico. E quindi siamo anche giustificati a dedicare queste tre pagine, questi tre giorni, no? Al tema, lo sapevamo già prima ovviamente che ce lo dicesse Lacan. Si può concepire l'amare come tensione verso l'uno? Si domanda Lacan rievocando Platone ovviamente, no? Il neoplatonismo è esattamente questa nostalgia della totalità, il pleroma, no? Vi ricordate di Plotino? Questa esigenza dell'uno è dall'altro che proviene, risponde Lacan. Laddove vi è l'essere, vi è anche l'esigenza dell'infinitezza o di un assoluto, mentre la realtà è intessuta di contingenza e singolarità. È una sorta di contromovimento, di compensazione di fronte al limite, no? Questo desiderio dell'intero, dell'assoluto, a fronte del frammento e del limite di cui facciamo esperienza continua, no? L'amare mira all'essere, cioè a quel che nel linguaggio si sottrae di più. L'essere si sottrae per delle ragioni ovviamente di cui si potrebbe, su cui si potrebbe soffermare più a lungo, a ciò che ha bisogno e che tuttavia manca l'essere, intendiamolo come intero, come totalità. L'amare, se è vero che ha rapporto con l'uno, scrive Lacan in quel seminario, non fa mai uscire nessuno da se stesso. L'amare non fa mai uscire nessuno da se stesso. L'altro resta impenetrabile e irriducibile dalla cattura pulsionale del soggetto. L'altro non si addiziona all'uno. L'altro se ne differenzia solamente. L'altro è, per così dire, l'uno in meno, dice un'altra immagine suggestiva, Lacan. L'uno in meno. In amore, armonia e beatitudine sono soltanto le apprensioni di un miraggio. Quel poco di realtà, lui dice proprio peu de réalité, quel poco di realtà che fa da supporto al principio di piacere, resta radicato nel fantasma, conclude sempre Lacan. Torniamo quindi all'entità fantasmatica su cui Lacan e i suoi allievi, tipo La Planche e Ponta Dì, hanno insistito molto. L'amare si rivolge sempre al sembiante, evocato e messo in scena dall'immaginario. Pertanto il rapporto sessuale è impossibile, secondo la nota tesi, poiché ogni rapportarsi è meramente fantasmatico. La sua inesistenza rende possibile, però, la poesia del fare l'amore, come nel caso esemplare di quella cortese. Scrive Lacan, fare l'amore è poesia, anche perché parlare d'amore è in sé un godimento. Però dobbiamo essere consapevoli di che cosa si tratta, ovviamente. Scostandosi in parte dall'insegnamento freudiano, seppur in modo assai problematico, secondo il mio avviso. Lacan sembra dissociare il godimento dall'amore. Il rapporto sessuale non esiste, come suona la celebre tesi, non dello psicanalista francese, perché in esso la libido trova soddisfazione a prescindere dall'altro, generando una pulsione narcisistico-autistica, refrattaria alla reciprocità. E qui bisogna fare bene attenzione, perché Lacan scrive quello. Lui scrive esplicitamente, in tal senso, il godimento è ciò che non serve a nulla. Parole di Lacan. Perché il soggetto ama se stesso, vuole il proprio bene. Nel godimento sessuale il soggetto vuole il proprio, si vuole bene. Mediante il corpo dell'altro. Il corpo d'altri funziona come strumento per volersi bene. Provate a immaginare ancora una volta il narcisismo che rientra in questo discorso dalla finestra, per così dire. Laddove non ce lo saremmo più aspettati di ritrovarlo. Mentre invece amare, vi dicevo dissociazione tra godimento e amore. Amare significa riconoscere la singolarità dell'altro, articolata sulla mancanza e la possibilità del dono. Parole non da poco, ovviamente. E chi ci riprontano? Penia, vi ricordate? La mamma di Eros. Il dono, poi voi sapete, in filosofia quale pregnanza, quale enfasi, quale pathos vi sia in filosofia. L'amore è esposizione alla mancanza, cioè è il dono della propria stessa mancanza. Se io amo l'altro, amo donare ad altri la mia mancanza e l'altro chiede a me la mia stessa mancanza come io chiedo a lui la reciprocità di una mancanza, cioè non di una totalità, non la ricostruzione dell'uno, non il compiacimento narcisistico, diciamo, della propria mancanza di vuoto, di non essere, di sospensione sul nulla, per rievocare un po' i termini precedenti. Mentre lo scetticismo freudiano non vede possibilità di trascendere la passione narcisistica, potremmo dire un po' così, seguendo il discorso, della quale l'altro è mero supporto, Lacan scorge l'esistenza di una versione reale dell'amare quando si dona all'altro ciò che non si ha. Questo è il vero amore, donare ciò che non si ha. Lui poi aggiunge anche a qualcuno che non lo vuole, ma questa doppia negazione complicherebbe un po' il discorso, no? Cioè donare la propria mancanza, rinunciando al proprio delirio di onnipotenza, perché quando non si offre la propria mancanza, i casi sono due, o è quello oppure è delirio di onnipotenza, cioè di non mancare di nulla. E questo mi tornano in mente le parole da Cristeva. Questa è un'epoca in cui il soggetto sembra presentarsi dicendo di non mancare di nulla. Ma questo non sarà il consumo, sarà uno slittamento. Comunque, insomma, queste sono tematiche su cui meriterebbero ben altre considerazioni, no? Se amare e dare ciò che non si ha, chi afferma di non mancare di nulla o di godere di tutto, perché accade anche questo, si vieta tale esperienza. Si nega la possibilità di un amore irriducibile al narcisismo dell'uno. Allora il soggetto del desiderio sarà colui che formula la domanda d'amore a partire dalla propria mancanza ad essere. Qualcuno di voi ricorderà le manque a être di sartreana memoria, a cui attinge lo stesso Lacan. Convertendo la necessità e la solitudine relativa all'impossibilità del rapporto sessuale nella contingenza dell'incontro d'amore, nell'incontro tra due mancanze, dunque, che si riconoscono come tali, che può generare talvolta la gioia d'amore, l'espressione non è mia ma è di racconto, perché finalmente ci sentiamo giustificati ad esistere, ma solo se ci incontriamo nella contingenza del nostro transito pericuro, potremmo dire, donando, riconoscendo e donando la propria mancanza. Amare significa dare ciò che non si ha. Capite? La corredazione molto importante, direi, creata. Io volevo in realtà quest'ora aver già chiuso, ma volevo ricordare in effetti che qui ci vorrebbe una pass costruence, perché tutto quello che ho detto finora, insomma, anche già con Lacan ci avviciniamo verso una possibilità, se vogliamo, un po' inaudita, perché chi ha il coraggio di presentarsi all'altro mostrando, esibendo, potremmo dire, la propria mancanza. Ma quanti di voi hanno questo tipo di esperienza? Purtroppo, se la Cristela ha ragione, come io credo che purtroppo ce l'abbia, quasi tutti tendono a presentare una sorta di delirio e di onnipotenza, cioè di non mancare di nulla, assolutamente di nulla, e dunque proprio di andare nel senso metalmente opposto. Ma insomma, al cospetto di questa evidenza analitica, tutto sommato, cioè il carattere fantasmatico e intransitivo della mare, correlato alla vanificazione di tale esperienza in termini di esplorazione dell'alterità, vorrei richiamare da un lato la conclusione tragica del film Jules et Jim, in cui loro tentano appunto di scoprire qualcosa su una nuova forma di amore, qualcuno di voi ricordate, è uno dei capolavori assoluti della storia del cinema, abbiamo giocato con le sorgenti della vita e abbiamo perduto, cioè ogni trasgressione poi in realtà viene ricondotta nell'alveo della legge, emblematica di una fase di sperimentazione esistenziale conclusa ormai da tempo, ahimè. Dall'altro il poeta francese Arthur Rimbaud, il quale sosteneva che l'amore è da reinventare, lui è una cosa tipica, citatissima di Rimbaud, l'amore è da reinventare, forse nel senso caldeggiato recentemente da Alain Badiou, filosofo francese, uno dei pochi sopravvissuti alle catombe della scuola post strutturalista di Ré, di concepire l'amare come una costruzione di verità addirittura, Badiou è un po' anche platonico, matematico, quindi ci sono delle metafore abbastanza curiose, l'amore è come una costruzione di verità, cioè fare esperienza del mondo al partire dall'essere in due e non più in solitudine, assistere ad una nuova nascita del mondo da una scena di dualità per accedere finalmente alla verità della differenza, dalla casualità contingente e temporanea dell'incontro al progetto durevole e fedele di una costruzione di verità, non qualcosa di effimero come l'attrazione del colpo di fulmine, ma qualcosa che abbia la struttura dell'impegno, dell'ostinazione e della fedeltà, in termini della nostra amica. Poiché, come diceva il grande poeta Fernando Pessoa, l'amore è un pensiero, quindi costruzione di verità, anche se sorprendeci ovviamente, la sentimentalità, la fluidità della vita affettiva, no, costruzione di verità, effetto di pensiero. Allora, vediamo un po', cinque minuti ce la fate ancora? Ci proviamo, perlomeno, grazie. Non abbiamo tempo per le domande, e allora possiamo anche concludere così? Non è che ci tenga, se no faccio io il narcisista che vuole dire tutto, no, diciamo solo una parte, manco di una parte, della parte finale, e dunque sono un soggetto idoneo a tale esperienza. No, io volevo ricordare Lussalome, secondo me poi, Lussalome, adesso lo dico così a braccio, no, Lussalome, Anna Arendt e Milena Iesenska, l'amica di Kafka, che poi, come ricordate, le lettere a Milena, non Milena, ecco, queste tre donne hanno offerto ulteriori significativi contributi a concepire davvero l'amore in quel modo che Rimbaud diceva è da reinventare. Quindi se noi ci rivolgiamo davvero al pensiero della differenza, in questo caso del genere femminile, troviamo degli elementi, il cui svolgimento e articolazione, devo dire, lascio agli atti, alle paginette che usciranno in merito a questa mia conversazione. Vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.